Ho fatto un po' di domande ad Ale per capire meglio cosa significa questa policy delle ferie infinite. Beh, Marcello, è super facile. Le persone da Gammy possono prendere le ferie quando e come vogliono, quindi tecnicamente hanno un congedo illimitato permanente retribuito da Gammy a patto che non facciano inchiodare, non facciano fallire i progetti esistenti. Quindi tu, ogni dipendente, ogni collaboratore, ogni collega da Gammy può prendere le ferie quando gli pare. Questo significa bilanciare una grande libertà e una grande responsabilità che è quello che facciamo in realtà in tutti i progetti di Gammy e nel day by day dell'agenzia. Quindi la domanda spontanea è, poi le persone con le ferie si prendono? Cioè, se le prendono queste ferie e vanno in ferie? Le persone sono molto diverse in base a quello che hanno voglia di fare. Cioè, chi vuole prende poche ferie, invece chi vuole approfitta molto di questa libertà. E questo però fa il paio anche col fatto che le persone di Gammy possono lavorare negli orari che vogliono e da dove vogliono. Quindi qualcuno, oltre magari a prendere delle ferie insolite o particolarmente lunghe, magari invece decide di andare a fare smart working e lavorare da posti remoti.